Siamo in compagnia di Matteo Spinella, capitano, come è stata questa stagione capitano? È stata una bella stagione, la squadra molto unita, un bel gruppo, molto affiatato come gruppo e quello secondo me ha fatto anche la differenza poi in campo e il campionato ha combattuto tante ottime squadre, partita su partita, punto su punto, sempre molto tirato. Gli avversari sono stati di livello, ce la siamo giocata sempre, non sono state partite facili e è servito essere tutti al 100% e sempre disponibili per giocare.